Poi Scarinzi mi dice qualcosina sull'atmosfera, partita 21 o 21 e 5? 21, 21, 21, ci siamo, ci siamo, 9 pm L'altro è l'orario da Europa League, 18 e 55, 21 e 05 Avete capito perché li ho fatti sede vicini? Noi non ne sappiamo in quella competizione Ma è che nella Champions non è che avete troppo coscienza Se cose degli orari non li conosciamo E' da un po' che non le giochiamo più le partite Ecco lo stadium, sta per partire, forza Juve dai Almeno tu portaci avanti in questa Champions League Perché uscire totalmente dalle coppe, anzi dalla coppa è davvero per il nostro calcio Una tragedia e lo diciamo pure anche per la nostra trasmissione Vai ragazzi che è maturo, il corner dentro l'area di rigore La testa di Chiellini si impenna il pallone in due A mettere fuori c'è un tocco di mano forse C'è un tocco di mano, intanto la difesa dell'Atletico spazza via Chiedono il VAR, chiedono il VAR C'è, c'è, ci sarà il VAR Stai a vederlo questo 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 VAR Bernardetti posizione, cross Va vieni! Ecco! Ma vieni! Ronaldo! Ma vieni! La rete di avanti! Ronaldo! Vai! Oh! 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 Vai! 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 E' lui! E' lui! E' lui! Rivediamolo! 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 Mauro! Allora! Annullato forse! No, no, fermi! Non fate casino! Grande gol! Allora! Ronaldo anticipa il difensore! Colpo di testa bellissimo! Mamma mia! Lo anticipa! Collasso ragazzi! Ma cosa dite questo che deve... Ma dai! Ma per favore! Aspetta! Lo raccontiamo meglio! No, no, no! Lo sto raccontando! Il difensore dalla sinistra con Ronaldo che prende il tempo! Ma per favore! Che prende il tempo! One frame di testa! Traffiggino! Ma dammi l'ha preso per questi gol in questi momenti! Fermi un attimo! Alziamo il termometro per piacere! Fermi un attimo! Posso dire una cosa importante? Che abbiamo un grande giocatore! Ok! La rete di Cristiano! Che significa? La rete di Cristiano! La rete di Cristiano! La rete di Cristiano! Sì! Di nuovo lui! Grande Ronaldo! Ecco perché l'abbiamo preso, caro Enzo! Ecco! Guarda! Sì, guarda! I tuoi 100 milioni! Bravo! Dove sono? Guardalo lì! Adesso è Ronaldo! Allora! Guarda, guarda! Raccontiamole il cross! Azione! Traversione! Guarda! 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 E' andato in parale! Centrale! No, fermo! La controlla è meglio perché Cristiano con la testa mette dentro! Oblak prende il pallone! Fa un miracolo strepitoso ma lo prende dentro questo pallone! Eh sì! Una parata clamorosa! Ma un centimetro dentro! Sì! Quello ci vuole il particolare! Un centimetro! Come ci conferma la gola in technology! Quello fa la differenza! Non ce ne eravamo accorti ma l'orologio dell'arbitro dice che è gol! Goal line technology! Fenomeno Ronaldo! Fenomeno Ronaldo! Fino adesso! Le risposte a tutti! Le risposte a tutti! Non è finita! C'è una giustizia divina! Fermi! C'è una giustizia divina! Bene! Bene! Ricordiamoci che siamo in televisione anche se Granelli si fa bene a risultare! Non è finita! È lunghissima! 2-0! Fenomeno Ronaldo! Questi gol deve fare! Non con l'Empoli! Dai che la Juve adesso ci crede! Ci crediamo tutti! È passette gol! Scarizzi! È passette gol! L'Atletico con Saul che prende il pallone! Chiede l'1-2! Lo tiene Saul! Alza il campanile! C'è Morata di testa! C'è Chiellini che la stoppa e con calma va a cercare Moise Ken! Che fa la sponda molto bene! Cristiano allarga! Molto bene per Bernardeschi di forza! Bernardeschi uno contro uno! Bravo Allegri ha ragione! Aria di rigore Federico! Taglia tutto! Va giù in aria! Va giù in aria! Rigore! Va giù in aria! Incredibile! Va vieni! Incredibile! Timbelo! 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 È calcio di rigore incredibile! Bravo! Bravo! Piano! Piano! Che azione Bernardeschi! Comunque sulla destra l'Atletico è una tragedia! Aspetta aspetta! Entra in aria il Correa! Lo sgambetta! E non c'è! No no è caduta da solo! Lo spinge! Lo spinge! Lo spinge! Lo spinge! Allora ad occhio sembra che inciampa! No no lo spinge! C'è il vanno! Lo spinge! E però inciampa! No no no! Lo spinge! Guarda! Ma guarda! Allora facciamo così! Da bravi italiani! Stiamo scherzando! Da bravi italiani vogliamo prenderci qualcosa che non c'è! C'è il VAR! Dai! Ma tacci sto rigore! Se no è un bidone! Clr vai! Se no è un bidone! L'arbitro non va! Bidone e la spazzatura! intanto c'è Jimenez che cerca di andare a disturbare Giallo si prende il giallo Jimenez è andato a toccare il pallone sul dischetto del rigore, non si può Jimenez e il rigore gliel'ha dato non si può, Jimenez glielo dice Jimenez gliela promette Gigi la rigore? no c'è la mano, lui inciampa ma che ce frega intanto abbiamo già sentito e abbiamo sentito di tutto più che altro non è andato al VAR ma a distanza di un anno il rigore per la Juve può partire Cristiano? ma è la rete di Cristiano la rete di Cristiano la rete di Cristiano si Enzo si Enzo si Enzo incredibile 100 milioni 3 a 0 farà discutere ma non ce ne frega niente fermi allora gli ultimi 5 minuti adesso da vivere a Cardiopalma perché un gol cancella tutto ma di sicuro la Juventus mamma mia